Allora, salve a tutti amanti della passione professionale, questa è la quinta parte con tutte le attrezzature messe su un pannello di legno di abete, vedete? Ho potuto mettere solo queste al momento, spero che vi piacciono e se potete accetto consigli e critiche su come migliorare, spero vi piacciono, chiedo scusa perché sto usando una fotocamera Canon, va bene e ci vediamo al prossimo video, vi auguro buone feste di Natale!